Il sabato è un convegno particolarmente importante, il titolo è Prevenire e vivere, un titolo che già spiega il tema che verrà affrontato. Ecco, ci puoi riassumere che cosa avverrà in questa giornata? Sì, in questa giornata noi cogliendo l'occasione della presenza di tanti ospiti che verranno a Ferrara per Marathon, vogliamo far sì che la popolazione possa parlare con noi della prevenzione e della utilità di aderire ai corretti stili di vita. Sono tanti i settori e i temi che affronterete, tra l'altro in una giornata molto ampia che comincerà al mattino e terminerà nel tardo pomeriggio. Quali saranno i temi in particolare che affronterete? Sì, abbiamo diviso in due parti la giornata perché la prima parte sarà dedicata più agli studenti, in quanto diverse scuole di Ferrara hanno promesso di mandare alcune delle classi. e nel pomeriggio invece si cercherà di parlare, come ho detto, col pubblico e con le persone che frequenteranno l'iscrizione a Marathon. Ecco, quindi diciamo che rispetto a decenni fa viviamo di più, però bisogna vivere meglio e quindi bisogna educare le persone a mantenersi più sane nel lungo periodo. Certo, ci sono tanti lavori che hanno dimostrato che vivendo, fra virgolette, in maniera ottimale, si può vivere più a lungo ma vivere meglio. Noi cerchiamo di prevenire le malattie croniche invalidanti che purtroppo stanno colpendo grande parte delle persone che superano i 70 anni. La nostra speranza è proprio di poter parlare con i ragazzi, ma anche con i genitori e con i nonni, che sono molto importanti nell'educazione dei giovani, in quanto si è visto purtroppo che anche nel nostro paese, per esempio, esiste un problema di obesità infantile. Oppure si è visto che non tutte le persone aderiscono agli screening di prevenzione che ormai si sono dimostrati molto efficaci, però efficaci nelle persone che li seguono, in quelli che non si presentano, sicuramente rimangono i rischi di sviluppare un tumore in fase tartiva quando non è più possibile una diagnosi precoce.